te le due roti Fulvio Abate spero vivamente che venga a salvarci la Troica spero che da Bruxelles siano già partiti provo a immaginare un'auto blu che da Bruxelles con una valigetta venga qui per salvarci per salvare questo paese dagli analfabeti ma in modo spietato forza Troica Fulvio Abate te le due roti e però presto che chiaro? cioè non posso vedere questi analfabeti che fanno le battute su Moscovisi con le frasi di Osho puro analfabetismo da Punto Snow e quindi rispondiamogli Troica vieni ma cattivi forza Troica dico davvero non è una battuta che fai con la segnale che fai per salvare Grazie.